Nella mattinata odierne i carabinieri del raggruppamento operativo speciale del comando provinciale Carabinieri di Napoli hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di tre soggetti gravemente iniziati di associazione mafiosa, estorsione, omicidio e detenzione porto d'arma da fuoco in concorso, reati aggravati dalla finalità di agevolare il clan Licciardi e l'alleanza di Secondigliano. L'indagine sviluppata tra il gennaio 2022 e febbraio 2023 ha permesso di documentare attraverso l'approfondimento di pregresse e emergenze investigative, intercettazioni e pedinamenti che consolidavano le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. L'operatività del clan Licciardi nel 2013 e il coinvolgimento degli indagati nell'esecuzione dell'omicidio del sudale esposito Salvatore, detto Totoriello, scomparso il 27 settembre 2013. Le investigazioni hanno permesso di ricostruire il movente individuato della punizione d'onore per la relazione della vittima con la moglie di un appartenente alla famiglia Licciardi all'epoca detenuto, le fasi organizzative e preparatorie attraverso le quali gli indagati attiravano la vittima in una zona periferica, impervia e boschiva della città di Napoli, in territorio di Chiaiano, all'interno della vasta area in cui risultano presenti numerose cave di dufo abbandonate, dove con la partecipazione di elementi di vertice del clan Polverino Simioli, operanti in Manano di Napoli, eseguivano l'omicidio dell'esposito, uccidendolo con alcuni colpi di arma da fuoco. Successivamente il cadavere della vittima veniva sciolto nell'acido da parte degli affiliati al clan Polverino Simioli, costola dello storico clan Nuvoletta. Il provvedimento eseguito è una misura calcolare risposta in serie di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.